La mano sul petto L'altra mano in questa maniera Non ho appoggiato così Sciolti Guardate avanti Cercate di far partire il movimento dall'interno Quindi almeno dal centro del corpo Non dalla spalla La spalla significa il movimento che nasce dall'interno Vieni più avanti Non ti coppia male Dove sento la mia voce? Se lo vuoi mettere un atto No, qui 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 mettere un atto Cercate di lasciare Aprire e chiudere bene L'emilato sinistro del corpo Guardate il diritto avanti Guardate il nostro Guardate il nostro Guardate il nostro Grazie a tutti.